Il Governo punta sull'agricoltura di precisione. L'agricoltura di precisione diventa uno dei punti fondamentali del rilancio dell'agricoltura italiana, perché serve a risparmiare tempo, a risparmiare denaro, a mettere gli imprenditori agricoli nelle condizioni di poter lavorare nel migliore dei modi. Ci sono paesi in giro per il mondo che hanno fatto la loro fortuna con l'agricoltura di precisione e quindi pensare all'agricoltura italiana del futuro vuol dire passare dalle nuove tecnologie e dall'agricoltura di precisione. L'obiettivo è quello di smetterla con gli annunci ma cominciare a presentare al nostro paese progetti concreti. Progetti concreti che arrivano dallo studio, che arrivano dalle nuove tecnologie, che arrivano da chi ha deciso che l'agricoltura italiana non può essere più solamente tradizione ma deve essere innovazione.